con calma bolt con calma anche batik la macchina che stacca e davanti ci va bella stella incalzata da babby mon e così babby mon al comando bella stella di incalzo 14 la prima frazione in terza posizione bradley fox su blumen indal batik delle batie e bolt 400 iniziali in 29 molto scarso per babby mon che va via abbastanza allegra anche al passaggio del fronte la sensazione che abbia preso un po la mano vediamo c'è 44 scarso per i primi 600 metri intanto bella stella capeggia il gruppo degli inseguitori seguita da bradley fox che all'esterno blumen indal poi batik delle vadie e infine bolt primi 800 metri in 57 e 7 e io che pensavo che non corresse da protagonista vediamo il chilometro 12 e 4 stasera va davvero forte babby mon a capeggiare il gruppo sempre bella stella poi blumen indal che aggira bradley fox ancora un 14 e 6 per mille e due in 27 scarso babby mon al comando poi bella stella pareta di blumen indal ancora bradley fox con un largo batik in coda bolt ancora un 14 e 7 per babby mon adesso si avvicina blumen indal lo segue batik delle badie si lancia a centropista anche bolt siamo a 600 dalla conclusione uno 56 e 6 mille e 600 metri di babby mon che è raggiunta da blumen indal poi bella stella con all'esterno batik 400 scarsi al termine con babby mon in vantaggio blumen a ridosso poi batik scavalcato da bolt che si lancia all'inseguimento dei primi babby mon ancora in vantaggio blumen indal che prova l'attacco di dentro si butta bolt blumen indal va su babby mon e passa nel finale in seguito da bolt blumen indal che va a concludere netto vincitore davanti a bolt poi babby mon batik e bella stella blumen indal e direi qui va sottolineata anche un'interpretazione veramente perfetta di rené legati che non ha sbagliato una virgola 2 41 e 1 sui 2200 metri blumen indal il varen e l code quindi sicuramente carissimo a rene legati perché figlio della l code il training di alessandro gocciadoro su bella stella 2 41 e 1 per i 2 mila e 200 metri quindi siamo su una media intorno all'1 e 13 scarso togno